Jane Alexander e Elia Fongaro hanno confermato la loro relazione, la provvedia ha sbuggiardato Deyanira Marzano riguardo il tradimento di Gollini Nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello Deep, il reality show condotto da Ilari Blasi, che tornerà domani in prima serata su Canale 5 con l'attesissima penultima puntata Le ultime novità si soffermano su Jane Alexander e Giulia Provvedi, le ultime eliminate dalla casa di Cinecittà Se l'attrice neutralizzata italiana ha confermato di stare frequentando Elia Fongaro ai microfoni di Domenica Live, la cantante delle Donatella ha voluto replicare alle dichiarazioni di Deyanira, riguardanti il presunto tradimento di Pierluigi Gollini News GF Vip, Jane Alexander e Elia Fongaro si stanno vedendo. Jane Alexander è stata ospite della puntata odierna di Domenica Live L'attrice italo-inglese ha fatto chiarezza sulla storia finita con Gianmarco Amicarelli A tal proposito, Jane ha detto di essere andata a prendere il suo cane Rocco, occasione in cui ha avuto un chiarimento pacifico con l'ormai ex compagna Inoltre ha ammesso di aver sbagliato i modi e i tempi per porre fine alla storia con il compositore L'attrice ha raccontato che con lui era infelice, in quanto tra loro non c'era più dialogo Poi ha parlato di Elia Fongaro, l'ex velino di Striscia la notizia, che invece l'ha fatta stare bene e sentire protetta A tal proposito, Jane ha dichiarato che sta attualmente frequentando Elia, per capire che rapporto vogliono intraprendere Infine, ha escluso la possibilità che l'uomo stai fingendo con lei. Grande fratello Vip, Giulia provvedi contro De Amira Se Jane ha dichiarato di stare frequentando Elia, Giulia provvedi è tornata a far parlare di sé dopo essere stata eliminata dalla casa del grande fratello Vip La donna, infatti, è stata ospite della puntata di oggi di Domenica Live per parlare delle voci sul presunto tradimento del suo fidanzato Pierluigi Gollini A tal proposito, la sorella di Silvia provvedi ha voluto mettere la parola fino all'indiscrezione lanciata da De Anira Marzano, tanto da dichiarare che il suo fidanzato era a Bologna e non in discoteca milanese, come testimoniato da alcune foto e video postate dal migliore amico del padre Inoltre Giulia ha precisato che aveva fiducia incondizionata su Pierluigi, tanto da voler conoscere il motivo di tanta cattiveria da parte della blogger Tali dichiarazioni avevano fatto stare male l'ex Jeffina, mentre il calciatore aveva impedito il confronto tra De Anira e la sua attuale fidanzata durante una puntata del GF Vip Chissà se la blogger risponderà alle parole di Giulia Provedi? Non ci resta che attendere nuovi sviluppi